Mi trovo a Piazza Coperta in via Anfiteato nel pieno centro, nel pieno borgo Umbertino e mi trovo qui all'interno dinanzi a quella che era la macchina mangiaplastica, un servizio di Chima Ambiente Amio che era finalizzato a far sì che i cittadini conferissero bottiglie e flaconi in plastica e ottenessero un coupon da 30 centesimi di sconto sui ticket dell'AMAT, di ticket Chima Mobilità. Quindi una scelta certamente ecologica, ma come vedete il servizio EcoBox è temporaneamente sospesso. Qui non si tratta di una sospensione breve, ma sono mesi che questo servizio non è attivo. Ci domandiamo perché non venga riparato rapidamente, perché non è che poi ci vorrebbe tanto a far intervenire una squadra o portare i pezzi diciamo rotti, non funzionanti, nelle officine, insomma in altre parti d'Italia dove si provvederebbe a ripararle. Ma come si sa, a Taranto Chima Ambiente e l'amministrazione comunale si sciacquano la bocca di una immagine ecologica, ma poi i risultati sono questi, che una macchina che aveva certamente una sua razza, una sua funzione, è sospesa, la sua attività è sospesa, ma si sa Melucci ama vivere di slogan, ecosistema Taranto, no? Un po' come poi è stato il nome della coalizione, che poi vorrei sapere che cosa c'ha di ecologico l'amministrazione Melucci, proprio nulla. E questa è la prova provata, questa macchina che non funziona, fa capire come questa amministrazione vive di slogan, vive di frasi fatte, vive di immagini così ad effetto, effetti speciali, però poi la realtà è che se tu dici voglio effettivamente così conferire dei rifiuti di plastica per aiutare l'ambiente, per avere un risparmio, nulla, è tutto bloccato. E a dimostrazione di questo stato di paralisi, di morte seppure temporanea del servizio, guardate, le bottiglie depositate lassù, sopra una macchina che non funziona. E la cosa bella è che poi tanti cittadini mi hanno sottolineato il problema, tanto più ora che sono consigliere comunale, questo dimostra la sensibilità ambientale dei cittadini e l'inefficienza dell'amministrazione. Questa è Taranto, queste sono le favole di Rinaldo Melucci con il fantomatico ecosistema Taranto, un ecosistema in cui l'ex Silva può fare di tutto di più con il silenzio nei fatti dell'amministrazione comunale. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS